Dopo la pausa di agosto torna a correre la Superbike nel campionato mondiale 2020 Ci sarà la prima di tre tappe spagnole che si è accorsa appunto ieri ad Aragon Aragon ospiterà anche la tappa di questa settimana e poi si andrà a Barcellona per un tritico tutto spagnola Parliamo però del Racing Podcast riguardo la tappa di Aragon che ha visto ancora una volta il duello per quanto riguarda la Superbike tra Scott Redding e Jonathan Ray Un duello che vede prevalere il nord irlandese della Kawasaki con due vittorie a uno nelle tre gare complessive Partiamo però da quello che è successo nella gara del sabato perché da tifo ducati sono veramente contento di poterlo dire Poter celebrare una doppietta che ha del incredibile con Scott Redding davanti a tutti Secondo Chats Davis per il team di Borgo Panigale che sta provando in tutti i modi a vincere il campionato del mondo L'ha fallito l'anno scorso con Bautista Con Redding sembra aver trovato probabilmente un pilota un po' più completo Battere lei è ancora difficile perché il nord irlandese è veramente il cannibale È veramente un pilota costante ed è difficilissimo batterlo Ma almeno in gara 1 di Aragon la Ducati Aruba era quantomeno la moto da battere In particolare menzione d'onore a Chats Davis che ha fatto un signor secondo posto Lui che è il re di Aragon ci ha vinto per sette volte e puntava a vincere l'ottava volta Purtroppo non ce l'ha fatta una gara che poteva sancire quantomeno una prestazione importante per la Ducati Al sabato con appunto la vittoria di Redding che in quel momento aveva la leadership del campionato La domenica invece recita tutto un altro scenario perché quest'uomo il cannibale Jonathan Reis Si aggiudica due vittorie la prima nella sprint race della domenica mattina Di fatto annichilendo la concorrenza e non avendo avversari Nella seconda invece c'è sempre la vittoria del nord irlandese Sempre Jonathan Reis ma con dei brividi finali perché al quarto giro dell'ultima gara Jonathan Reis sbaglia l'ultima curva prima del traguardo Chad Davis che stava facendo un'altra signora gara si è riavvicinato Ha provato addirittura a battere Jonathan Reis in pista ma non ce l'ha fatta il nord irlandese Dunque si aggiudica la seconda gara su tre e si riprende quella che è la leadership del campionato Per Jonathan Reis e per Scott Redding ha suonato Golf Save the Queen Ma le vittorie di Jonathan Reis sono significative perché il nord irlandese è arrivato a 95 vittorie di carriera Ed è a meno 5 da questa incredibile quota delle 100 vittorie in Superbike Per quello che è indubbiamente al di là del tifano dei piloti più forti e più completi degli ultimi anni E della storia addirittura della Superbike Superbike che appunto vi dicevo avrà tre tappe spagnole consecutive Due gare ad Aragon e una a Barcellona Ma andiamo alla tappa di questa settimana perché si correrà il 5 e il 6 di settembre Con Jonathan Reis in prima posizione con 189 punti complessivi 10 punti di vantaggio su Scott Redding che è a 179 Più staccato Topper che è la scuola che è terzo e Chas Davis che è quarto con 120 punti È appunto una gara questa qua di Aragon che probabilmente ha individuato Quelli che sono i veri valori in campo di questo campionato mondiale Ed è indubbiamente un duello a due tra Jonathan Reis e Scott Redding La Yamaha oggi ad Aragon o meglio ieri ha deluso Non ha collezionato neanche un podio Ci sono delle sorprese molto interessanti e lo vediamo poi nei podi di gare della domenica Ma la Yamaha appunto è una delusione perché è una vettura, una moto meglio Che appunto punta al podio quantomeno tutte le gare e ha puntato su un pilota forte come Toprak Effettivamente vederla lottare con altre moto Anche clienti e lo vedremo nella sensazione dei primi del rider del giorno fa abbastanza riflettere Andiamo a vedere quelli che sono i podi di queste tre gare di Superbike Appunto vi dicevo in gara 1, doppietto Ducati, Scott Redding davanti a tutti Con Chas Davis secondo e Jonathan Reis terzo A segno della grande costanza del pilota nordlandese di cui vi dicevo Primo è Jonathan Reis invece in gara sprint Secondo è Scott Redding E terzo è Michael Van der Mark che appunto salva la Yamaha da un weekend che comunque complessivamente è deludente La gara 2, quella della domenica pomeriggi invece riserva delle sorprese Non nei primi due che sono Jonathan Reis e Chas Davis Che appunto si è risvegliato e tornato in forma il pilota gallese ad Aragon Ma il podio che fa comunque aprire una nota di merito è questo Quello di Alvaro Bautista con la onda ufficiale che è tornata ad alti livelli Ad Aragon Bautista si era trovato benissimo anche l'anno scorso Con la Ducati quando aveva vinto tutte e tre le competizioni Qui con la onda ufficiale fa il primo podio della stagione Ed è veramente molto significativo È ottavo in campionato lo spagnolo Ma per questo podio secondo me Alvaro Bautista si prende il mio meritato rider del giorno Quanto meno per la gara della domenica Per le altre gare il mio secondo rider del giorno è ancora una volta Michael Ruben-Rinardi che si dimostra il migliore degli italiani In categoria Superbike Quarto, ottavo e quinto nelle tre gare Soprattutto un quarto e un quinto posto nelle gare lunghe sono molto significativi Considerato due aspetti Uno, Michael Rinardi ha una moto clienti del team Goeleven Quindi giustamente non ufficiale Non ha tutte le concessioni che hanno le moto ufficiali E soprattutto un quinto posto in gara 2 A lottare comunque con moto ufficiali come appunto la Yamaha Come l'altra Honda di Asam che anche lui ha fatto una grande gara Insomma c'è tanta carne al fuoco per Michael Rinardi Che si dimostra ancora una volta un pilota costante Un pilota da prime cinque posizioni addirittura E ha una moto veramente ultra privata Chi è deluso è effettivamente il 3MA È BMW che si dimostra qui veramente inconsistente Con Tom Sykes che fa punti soltanto in una gara su tre E stesso discorso per l'Averti Fanno punti entrambe le BMW nelle gare lunghe della domenica 12esimo e 14esimo l'inglese e l'irlandese È un campionato molto equilibrato Questo della Superbike E sarà interessante seguirlo fino a Estoril Che è il nuovo circuito che è stato inserito come conclusione del calendario Prima si doveva concludere a manicura inizio ottobre Invece la settimana dopo La tappa sul circuito francese a Estoril Si correrà le ultime tre gare della stagione Per decidere chi effettivamente tra Jonathan Ray e Scott Redding A menù di rimonte da lontano Vincerà questo titolo 2020 Stagione caratterizzata come sapete dal lockdown Causa Covid Per rendersi sugli altri italiani Abbiamo parlato molto bene di Michael Ruben Rinaldi Che appunto vi ripeto è uno dei miei rider del giorno Gli altri italiani Federico Caricasulo con la Yamaha del team GRT Fa nono e tredicesimo nelle due gare lunghe Non fa punti nella gara sprint Marco Melandri ha deluso Quattordicesimo e diciassettesimo E più un ritiro per problema tecnico Nella gara due della domenica Pomeriggio L'ultimo italiano in questa gara è Lorenzo Gabellini Che tra l'altro era l'ultima gara di questa stagione Superbike Perché il team Altea Ritirerà una delle due moto In particolare quella di Lorenzo Gabellini E correrà semplicemente con Il pedo giapponese Takumi Takashi Che è un tester della Honda La moto di Gabellini E quelle di Takashi sono moto in configurazione stock E prendevano sistematicamente due secondi al giro Gabellini ha fatto quello che poteva E tornerà a correre nel Civ Chissà se lo potremo vedere L'anno prossimo il pilota italiano Si sono rivisti tanti piloti interessanti In particolare Chabi 4S Che con Kawasaki Clienti del team Puccetti Fa anche lui due punti Anche per lo spagnolo secondo me C'è la possibilità di avere Un premio di rider del giorno In questo caso Il numero 3 E comunque un bel campionato Questo della Superbike Perché comunque Nella prima parte del campionato È venuto fuori il talento di top Razzaziooglu Scott Redding Si è dimostrato sempre un pilota costante Su questa Ducati Dopotutto Scott Redding Vi ricordo è campione mondiale Del British Superbike In carica L'uomo da battere è sempre lui Jonathan Ray Ma sarà da vedere E da assistere A questa lotta incredibile E attenzione Anche all'altro Ducati Richard Davis Che si correrà ancora una volta Ad Aragon E punterà evidentemente A quella che sarà L'ottava vittoria Della carriera Sul circuito spagnolo Questa è la Superbike Un campionato veramente Molto bello Così sono come interessanti Gli altri due campionati Di questa categoria Di questo campionato mondiale Ovvero la Super Sport E la Super Sport 300 Per la Super Sport 300 Ci sarà veramente Una piccolissima parentesi da fare Perché c'è un dominatore Soltanto Ed è Andrea Locatelli Che vince sette gare Su sette disputate Veramente una macchina Il pilota di Alzano Lombardo Che corre sul team Barda Levan Brosse Di Yamaha Secondo è Incredibilmente Jules Clusel Che a parte un sesto posto Fa soltanto secondo Ci sono però Dei nuovi piloti Sul podio In particolare Filippo Attel Con il team Puccetti In questo caso Kawasaki Fa terzo in gara 1 E soprattutto Raffaele De Rosa Fa podio in gara 2 Il secondo stagionale Con la MV Agusta Ritirato purtroppo In gara 1 Altra parentesi A corso Maria Herrera In Super Sport 600 Come pilota sostitutiva Nella gara scorsa Di Portimano Nella nata punti Qui invece La pilota spagnola Fa un 14esimo posto In gara 1 Migliore di quelle Che correvano Nel campionato europeo Super Sport 600 La Super Sport A differenza dello Superbike È un campionato dominato E la vedo difficile Come si possa battere Andrea Locatelli Per quanto Il pilota bergamasco Abbia avuto Due vittorie diverse La prima Come al solito Dominando E l'altra vittoria Invece è stata Una gara Un pochino più combattuta Con i piloti Che hanno provato A fermarlo Ma Andrea Locatelli In questa stagione Sembra veramente Imbattibile Il binomio Yamaha Vardalevan Bros E il pilota bergamasco Sembrano veramente Impossibili da battere Chissà se possa arrivare Al record assoluto Allo sto punto Delle vittorie Della Super Sport Che ha già battuto Ma che può continuare Ad aggiornare Appuntamento Ancora una volta A Tarragon Questa settimana E ovviamente È impossibile Non pronosticare Ancora una volta Locatelli Vincente Che ha fatto Tutte le pole Tutti i giri veloci E tutte le vittorie Di questa categoria Passiamo alla Super Sport 300 Che invece Questo è un campionato Molto più equilibrato Anche se per una volta C'è lo stesso vincitore Per entrambe le competizioni Ed è Jeffrey Buis Olandese Su Kawasaki Del team MTM Motoport Per Andrea Locatelli Ha suonato Fratelli d'Italia Per lui suona Helt Wilhelmus L'inno nazionale Olandese È un campionato Molto equilibrato Perché appunto Facendo i podi Per quanto riguarda I piloti Che Contano Ci sono Tanti piloti In pochissimi punti Il podio di gara 1 Lo completano Anna Carrasco E Mika Perez Il podio di gara 2 Invece lo completano Thomas Brianti Che è il migliore Dell'italiano In gara 2 Pilota campione Regnante Di categoria Superport 300 Italiano E terzo posto Per un grande esperto Di questa categoria Ovvero Scott De Roo Il pilota olandese Ci sono 3 piloti In 3 punti Jeffrey Buisse Primo 86 punti Anna Carrasco Seconda 84 E Scott De Roo È terzo A 83 È un po' più staccato È un aio Radre Delude Tom Butemus Che in particolare Nella gara 2 Di Aragon Si ritira E fa un mezzo Passo falso Brianti Invece Il migliore degli italiani E sale a 58 punti È difficile Che possa avere Ambizioni di titolo Però per l'anno prossimo Brianti Può essere un bel talento Su cui investire Vedo più una lotta A 4 per i primi 4 Ma attenzione Perché la Supersport 300 È un po' come la Moto 3 Delle categorie dei prototipi Quindi molto equilibrata Ed è incredibile Come un pilota Possa sbagliare E ritrovarsi Di colpo Indietro Le gare di superpotazione Sono state molto diverse Perché Jeffrey Buisse La prima gara L'ha dominata In lungo e in largo Ha lasciato Scandare gli altri Per le posizioni da podio Molto più combattuti Invece a gara 2 Con appunto Buisse Che batte in volata Sia Brianti Che De Roo E dunque con queste due vittorie Buisse va in testa Al campionato Lui che addirittura Come vedete Alla grafica di Herets È arrivato trentesimo In gara 1 Quindi tutte le categorie Delle derivate della serie Si ritroveranno Ad Aragon Ancora una volta Per gara 2 In particolare Occhio alla Superbike Con Jonathan Ray Primo ancora una volta Ma solo con 10 punti Di distacco Sulla Ducati di Scott Trading Ed è un campionato Veramente molto bello Ed equilibrato Fatemi sapere Che cosa ne pensate Il saluto Da parte di Matthew Torgad Il prossimo appuntamento Con i video sul canale sportivo Domani Ora 19 Parleremo di MLB Che è arrivata Alla oltre metà Della stagione Mentre per quanto riguarda I video Sui campionati motoristici Non so se riuscirò A far uscire I video dedicati Su Formula 1 E Superbike Perché il 5-6 settembre Sono via E se sono troppo in ritardo Preferisco parlare Direttamente Del prossimo appuntamento Vedremo comunque Come si sviluppa Anche la programmazione Del mio canale amatoriale E se ancora non l'avete fatto Vi saluto ancora una volta Da parte mia Ci vediamo dunque presto Un prossimo video Un prossimo video Un prossimo video